magari siete delle persone che avete suddiviso la vostra giornata in forma tripartita giusto per adottare un termine musicale allora cioè dormite otto ore vi divertite otto ore e lavorate otto ore allora magari siete diventati bravissimi nell'articolazione nel legato avete una tecnica brillante iniziate la vostra giornata facendo un preriscaldamento delle note lunghe le scale gli arpeggi le terze le seste le settime alla scala cromatica gli esercizi di intonazione siete pronti insomma per affrontare il vostro brano allora un primo livello di conoscenza e ovviamente quello quello teorico abbiamo visto nei video precedenti la storia del carinetto è importante per un carinettista per un musicista appunto conoscere la storia del proprio strumento magari per capire certi meccanismi ovviamente capire anche la natura fisica del suono quindi come a livello fisico appunto cioè di scienza fisica si comporta il nostro come netto è veramente il massimo certo però sono argomenti molto molto difficili e quindi questo livello teorico appunto ha bisogno di molti approcci approcci proprio sistematici però vi garantisco che appunto riuscire a capire questi meccanismi acustici faciliterà in un certo modo ecco il modo di suonare allora dopo questa conoscenza questa prima conoscenza teorica sulla storia sul sull'acustica del clarinetto magari dopo appunto questa mezz'oretta di preriscaldamento siete pronti per affrontare il vostro brano brams cavallini schumann weber sport eccetera allora se è la prima volta che che ne so incontrate giovan battista gambaro la prima cosa che si dovrebbe fare è appunto avere una conoscenza teorica di questo compositore ovviamente non vi sto a dire mozart weber beethoven perché quelli appunto si conosce si studiano ecco fanno parte del nostro percorso di studio ma diciamo i clarinettisti compositori quelli che magari sono citati ma non sono approfonditi nella storia della musica è bene che ognuno appunto ne tenga in considerazione mi ricordo ai miei tempi quando ero uno studente per fare una ricerca e che non so su cavallini appunto anziché su robert stark era abbastanza difficile perché reperire il materiale era difficile adesso non è più così perché basta cliccare cavallini se sapete che un granattista quindi è quello potete appunto approfondire la vostra conoscenza teorica diciamo immediatamente quindi è un approccio che dovete fare giovan battista gambaro era il fratello di vincenzo oppure in quale in quale periodo operava nel periodo classico nel periodo romantico in quello moderno ecco robert stark era un romantico era un classico era un moderno ecco in quale in quale in quale ambiente operava in quale nazione in quale in quale centro dell'europa operava che tipo di musica era influenzata da quale insomma reperire delle notizie sul sul compositore ovviamente nel nostro caso sono per la stragrande maggioranza dei casi clernettisti compositori quindi è anche interessante qualsiasi strada voi vorrete intraprendere avere una conoscenza teorica dell'autore che si sta per studiare appunto è importante diciamo quindi questo è un primo livello diciamo teorico conoscitivo per affrontare meglio il il brano